ben trovati a questo nuovo appuntamento con il lavoro a 360 gradi oggi vogliamo aprire la puntata parlando di un progetto che si scrive recruiting ma si legge recruiting ne abbiamo parlato con il presidente dell'ordine degli ingegneri andrea falsirollo come anticipato siamo in compagnia del presidente dell'ordine degli ingegneri andrea falsirollo buongiorno andrea buongiorno a voi oggi parliamo di recruiting vogliamo capire come è nata questa idea allora l'idea è nata da due esigenze la prima era soddisfare le continue richieste che arrivavano da parte delle aziende alla nostra segreteria dell'ordine e dall'altra parte valorizzare i nostri colleghi la loro esperienza e quindi rispondere a esigenze del territorio e dall'altra parte favorire la mobilità dei colleghi verso posizioni e condizioni economiche migliori sempre all'interno del territorio veronese in quanto l'iniziativa è rivolta all'azienda della provincia associate a Confindustria, Appindustria e Ance e ovviamente agli iscritti del nostro ordine però questa era l'idea iniziale con cui è nata l'iniziativa poi però si è sviluppata in un modo che non ci aspettavamo all'inizio il primo motivo è perché è dovuto al fatto che abbiamo pensato più riprese come fare questa iniziativa prima della pandemia e non ci siamo mai riusciti a capire come svilupparla perché le incognite di un'iniziativa di questo tipo sono molteplici poi parlando con la camera di commercio su come fare sinergia come creare collaborazioni tra i nostri due enti è nata insomma ci hanno fatto una proposta che non ci aspettavamo quello di fare questo evento in videoconferenza perché loro avevano già avuto esperienza l'anno scorso verso la fine dell'ando utilizzando la piattaforma sviluppata dell'università di verona sulla quale era fatto un evento simile di recruiting rivolto però ai neoloreati e allora diciamo che abbiamo accettato la sfida è stata implementata dalla camera di commercio anche col nostro contributo la piattaforma una piattaforma che quindi è diciamo sviluppata proprio per far incontro domanda e richiesta di lavoro e quindi questa sarà la base di partenza per questa iniziativa ma questa iniziativa però spero che nel futuro quando ci sarà una dimostrazione di interesse dopo questo primo evento e dopo la fine del di questo periodo di crisi sanitaria spero che questo evento possa trasportarsi in presenza perché il valore aggiunto di fare incontrare professionisti e aziende è proprio dalla presenza più che della videoconferenza però credo che sia il modo migliore per iniziare un'iniziativa che era piena di incognite il cui inizio era da anni che teneva era sospeso e non si riusciva a portare a termine quello che non saranno incognite sicuramente è la data perché ricordiamo lo sarà il 15 di aprile con una serie di webinar dedicati proprio alle aziende che incontreranno poi ingegneri senior e junior presidente ma effettivamente riassumendo in brevissimo a chi ha rivolto questo progetto allora come ho detto prima gli eventi un evento era stato fatto da dall'università di verona per neolaureati o laureanti dell'università noi però rappresentiamo figure che hanno già esperienza e che quindi sono scritte al nostro ordine quindi sostanzialmente hanno un focus diverso però per questo motivo abbiamo pensato anche in funzione delle richieste che ci arrivavano che ci arrivano ancora attualmente di focalizzarlo su figure anche diciamo all'inizio del loro percorso lavorativo ma fortemente specializzate dove non è semplice per l'azienda trovare una risposta e dall'altra parte figure invece più tradizionali ma con esperienza dove anche questa è difficile anche per gli headhunters andare a ricercarle nelle aziende noi rappresentando molte di queste figure abbiamo molta più facilità anche se questo non è il nostro scopo come come ordine però abbiamo voluto favorirlo quindi le figure che saranno messe in gioco in questo in questo evento non saranno figure generiche ma fortemente specializzate e con esperienza questo sarebbe il focus ovviamente nessuna preclusione per le altre per conoscere più da vicino il progetto recruiting abbiamo anche incontrato il consigliere dell'ordine degli ingegneri alessandro dai pre come anticipato siamo in compagnia di alessandro dai pre consigliere dell'ordine degli ingegneri e oggi vogliamo capire alessandro quante istituzioni quanti partner sono coinvolti in questo progetto recruiting buongiorno a tutti i partner istituzionali e comunque organizzatori di questo evento sono camera di commercio di verona e ordine degli ingegneri di verona e hanno aderito poi a questa iniziativa ANCE VERONA, UP INDUSTRIA CONFIMI VERONA e CONFINDUSTRIA VERONA loro hanno aderito da subito a questa iniziativa la nostra proposta hanno partecipato alla costruzione di questo evento che parte da novembre è stato un percorso lungo articolato cercare di fare le cose al meglio hanno portato il loro contributo e hanno diffuso la notizia presso i loro associati abbiamo raccolto un buon numero di adesioni come aziende interessate e siamo fiduciosi nella realizzazione di un evento unico probabilmente in Italia soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione da parte di un ordine professionale perché altre iniziative sono fatte per collocare i neolaureati qui invece si parla di un collocamento di professionisti altamente specializzati perché chi è iscritto all'ordine oltre a dover superare l'esame di stato poi ha anche un obbligo formativo continuo che specializza e forma il professionista nel tempo Alessandro questo è un progetto che ha intenzione di essere continuativo nel tempo e se sì in che modalità e soprattutto l'ordine che ruolo avrà in questo progetto recruiting? L'iniziativa è sperimentale come accennavo prima per professionisti qualificati almeno nei territori limitrofi sembra che sia un'iniziativa unica quindi noi siamo fiduciosi e abbiamo anche intenzione di fare una seconda tappa probabilmente in autunno ma non è ancora definitivo in base anche all'esito di questo primo step l'idea è di cambiare leggermente la formula mentre come prima puntata abbiamo deciso di collocare provare a collocare con professionisti affermati in modo definitivo comunque con una posizione stabile quindi ricerca non dico del posto fisso ma quasi per un eventuale secondo step l'idea è quello di allargare innanzitutto ad altre realtà imprenditoriali del territorio come confcomarcio e confartigianato e con questa occasione anche cambiare la formula cioè non più la ricerca del professionista da inserire stabilmente all'interno della propria organizzazione ma anche una figura che possa offrire prestazioni parziali o consulenze spot quindi potrebbe partecipare anche il professionista che già ha una sua attività indipendente e che cerca nuovi sbocchi sul mercato lo stesso al lato imprese non vogliono una figura da inserire stabilmente nella loro organizzazione ma qualcuno che sia comunque affidabile con una competenza certificata che possa affiancarli e risolvere in maniera occasionale le varie problematiche che possono sorgere all'interno di un'attività imprenditoriale anche quella che potrebbe essere quella del commercio o quella dell'artigianato che magari rispetto all'industria non hanno bisogno di una figura ingegneristica stabile all'interno del loro team vogliamo dare presidente anche un po' di numeri di questa prima edizione che sta comunque anche in termini numerici dando grande soddisfazione quante aziende e quante sono coinvolte in questa prima edizione di recruiting ecco allora qui diciamo nasce un po' l'esigenza di sfatare un mito noi pensavamo che avremmo avuto poche aziende o comunque un numero contenuto di aziende e avere e molto più professionisti invece che cercavano di trovare un nuovo posizionamento sul mercato del lavoro e adesso non abbiamo ancora i numeri precisi di quanti nostri colleghi aderiranno all'iniziativa perché siamo ancora in una fase iniziale però possiamo dire quante aziende hanno aderito e possiamo dire che diciamo ci sono circa 35 aziende molte di più di quelle che ci aspettavamo con circa 120 posizioni che vengono ricercate da queste aziende quindi un numero tale che non sappiamo se riusciremo a soddisfare perché la richiesta è molto elevata e dà il segno anche di come il territorio riconosca nella figura dell'ingegnere una figura importante per lo sviluppo della propria azienda e questo ci dà anche uno stimolo per continuare nel futuro sempre nella speranza che i nostri colleghi siano disponibili a cambiare e che quindi incontrino favorevolmente questa iniziativa. Se questo non avvenisse vorrebbe dire che le università si dovrebbero impegnare a sfornare molti più ingegneri perché se non riusciamo a rispondere noi a queste domande del territorio non saprei chi può farle. Un evento importante e unico del suo genere da assegnare carta e penna come ci si può iscrivere Alessandro? Per le aziende le iscrizioni sono già concluse infatti abbiamo raccolto già un buon numero di adesioni da parte delle aziende. Per i professionisti le iscrizioni si aprono il 12 aprile ci si iscrive tramite il sito ingegneri.recruitingverona.it Per accedere sono obbligatorie le credenziali speed quindi per chi ne fosse già provvisto come molti professionisti immagino non c'è problema. Per chi fosse ancora senza può rivolgersi direttamente a Camera di Commercio di Verona che ci ha aperto un canale preferenziale oppure liberamente rivolgersi ad altri provider che fanno lo stesso servizio. Iscrivetevi perché è il primo evento a livello nazionale di questo genere che mette sotto lo stesso tetto Camera di Commercio Ordine degli Ingegneri e organizzazioni imperditoriali del territorio. Ringraziamo Alessandro D'Aipre e naturalmente anche il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri Andrea Falsirollo. Noi vi ricordiamo di non perdere l'appuntamento con Recruiting. Grazie a tutti.